Il prossimo intervento è di Andrea Serra, scusami Andrea Guizzi, dell'Associazione Fuori Pista di Fiumicino. Grazie Deo perché sei stato nei tempi. Buongiorno, mi chiamo Andrea Guizzi, sono un ingegnere, lavoro nel privato, sono un manager privato e da 9 anni, 10 anni mi occupo a Fiumicino della questione dell'aeroporto di Fiumicino. Me ne occupo ovviamente dal punto di vista volontario, abbiamo creato un comitato che si chiama Comitato Fuori Pista e che cosa fa questo comitato da 9-10 anni? Si occupa di quello che è il progetto, che immagino abbiate sentito, di raddoppio dell'aeroporto di Fiumicino. L'aeroporto di Fiumicino per la Regione Lazio ovviamente è un'infrastruttura strategica da tutti i punti di vista, da un punto di vista logistico, trasporti, visibilità internazionale, possibilità di portare decine di milioni di passeggeri su Roma e dintorni, per l'occupazione, per il fatto che c'è l'Italia, per tantissimi motivi, per l'indotto che comporta e che produce. Forse non tutti sanno però come viene gestito e quali aspetti in questa gestione comporta l'aeroporto di Fiumicino nell'immediato dintorni ma per tutta la Regione direi a questo punto. E cerco di spiegarvelo in poco tempo, per quello che è la nostra esperienza, la nostra visibilità, il nostro studio, il nostro approfondimento su questo tema. L'aeroporto di Fiumicino è chiaramente una concessione pubblica, concessa dallo Stato a un privato, questo privato si chiama Aeroporti di Roma, Aeroporti di Roma non è altro che una società del gruppo Atlantia e quindi di proprietà di un imprenditore conosciuto per gestire monopoli naturali in tutta Italia, che è Benetton, gestisce anche altri monopoli come le autostrade, quindi immaginiamo che sia uno specialista in questo tema. Lo gestisce ovviamente come si gestiscono tutti i monopoli naturali in questo paese attraverso l'erogazione di tariffe. Quindi questo imprenditore prende tariffe pubbliche per gestire un bene privatamente, un bene privato. Atlantia, Aeroporti di Roma, prevede per l'aeroporto di Fiumicino quello che noi chiamiamo, ma tutti conoscono in questo modo, il raddoppio dell'aeroporto, o Fiumicino 2 o Fiumicino Nord. Che cos'è? È il più grande progetto pubblico, diciamo così, la più grande opera pubblica d'Italia. Nulla a che vedere col ponte sullo stretto, ma semplicemente tre volte il ponte sullo stretto. Il valore di questa opera è 20 miliardi di euro, quindi l'appetito conseguente ha 20 miliardi di euro. 20 miliardi di euro non di beni, diciamo, di finanziamento privato. Non è un privato che mette 20 miliardi per fare un'opera pubblica, ma sono 20 miliardi di soldi pubblici che vengono reperiti dal concessionario attraverso il sistema delle tariffe, per una parte, 12,5 miliardi, il restante invece attraverso la fiscalità generale, quindi le tasche di tutti gli italiani. Dove interviene questo progetto? Il progetto interviene nell'immediata vicinanza, ovviamente, all'aeroporto. È un allargamento secco, sono 1300 ettari che si aggiungono ai 1300 ettari dell'attuale sedime e vanno a espandere l'aeroporto nella zona nord, quindi vanno a prendere tutta quella che oggi è la tenuta di Maccarese. Non so se conoscete, ma è una delle aziende agricole, probabilmente l'azienda agricola più grande d'Italia, un'ex azienda IRI comprata dal gruppo Benetton, appunto, 12 anni fa, al prezzo di mercato, diciamo, dall'ex IRI, a 98 miliardi delle vecchie lire. Quindi stiamo parlando di 45 milioni di euro. Ma parliamo di un'azienda agricola con tutto ciò che c'è sopra, quindi terreni, ma anche tutti gli annessi, i casali, i casali della bonifica, il castello e quant'altro, che è grande 3300 ettari, quindi è la più grande d'Italia. In questa azienda non si fa, come tutti magari immaginano, produzione di qualità oppure, non so, agricoltura per l'alimentazione delle persone, ma si fa zootecnia ed energia oggi. Quindi è un ciclo chiuso che vive su produzioni a favore dell'alimentazione animali, mucche, 4000 mucche, 4000 mucche che fanno il 30% del latte romano, ma che per lo più fanno tanto letame. Questo letame viene messo in die digestori e questi digestori producono energia, che attraverso il sistema delle tariffe pubbliche alimenta i conti della Benetton Maccarese SPA, che vengono alimentati a loro volta anche dal fatto che le mucche prendono i finanziamenti europei e che i terreni coltivati per le mucche prendono i finanziamenti europei. Se non ci fosse questo sistema di finanziamento esterno, la Maccarese SPA di Benetton, che occupa 50 persone, quindi un numero molto esiguo, quindi è un'azienda ad alta intensità di capitale, ma a bassissima intensità di lavoro, probabilmente non starebbe assolutamente in piedi e non darebbe da mangiare a nessuno. Invece intorno all'aeroporto esistono decine di piccole aziende agricole che hanno alta intensità di lavoro e fanno prodotti agricoli di qualità, biologici, biodinamici, anche a volte innovativi, di nicchia tipici dell'economia locale, i miloni di Maccarese, i pomodori, uva e quant'altro. Ora il raddoppio dell'aeroporto andrebbe insistere su questi 1300 ettari di territorio su Maccarese, che sono completamente all'interno di una riserva statale, che è la riserva statale di Torale Romano, quindi totalmente, teoricamente vincolati, e andrebbero a mangiarsi 1000 ettari dell'azienda della Maccarese e 300 ettari di questi piccoli produttori. Chi ci guadagna in tutto questo? Adesso è facile, insomma, la risposta. Benetton esproprierebbe se stesso, attraverso appunto i fondi che gli arrivano dal pubblico, esproprierebbe i propri terreni, quindi pagherebbe se stesso circa 210 milioni di euro e riprenderebbe quei stessi terreni dentro ad Atlantia. Peccato però quei terreni, una volta diventati da agricoli a aeroportuali, non varrebbero più nulla, come oggi, ma varrebbero infinito. Non hanno un valore reale, nel senso che non gli si può dare un valore reale perché i terreni aeroportuali per loro a natura, ad esempio, non hanno un indice di costruibilità. Io posso costruire anche un grattacero di 170 piani, nessuno me lo vieta. Benetton, diciamo così, ha indicato cosa vuole farci su questo territorio, ci vuole fare la quinta e la sesta pista di Fiumicino, il Fiumicino aeroporto ha già quattro piste, tutti dicono tre, ma in realtà ne ha quattro, è un'enorme aerostazione, che in realtà non è altro che un enorme centro commerciale, e un enorme punto di aggregazione per alberghi e quant'altro, ed è un enorme aeroporto low cost. L'operazione che sta facendo Benetton, sta facendo aeroporti di Roma su Fiumicino, è quello di attrarre a Fiumicino, già lo ha fatto negli ultimi anni, i voli low cost della regione. Vi sarete accorti, tutti quanti, immagino che tutti viaggiate in qualche modo, che il Lazio non ha un aeroporto low cost. Il Lazio a Ciampino, a Ciampino non è un aeroporto low cost, Ciampino è un aeroporto che nasce militare, viene adibito in qualche modo all'aeroporto civile, si deve trasformare in quello che qualcuno chiama City Airport, che non si capisce bene cosa sia, vive una dinamica di contrazione dei voli, perché la popolazione intorno si è ribellata al rumore, e morirà probabilmente in questo modo qua. L'aeroporto di Fiumicino ha inglobato in sé l'aeroporto low cost. Cosa significa questo per una regione come il Lazio? Cerco in due minuti di esplodere questa cosa. Significa che all'interno di Fiumicino, oltre al fatto della speculazione che vi ho descritto, che è enorme ovviamente, c'è un altro problema che si introduce fortissimo, che è la concorrenza tra i voli low cost e i voli dei cosiddetti carrier, tra cui all'Italia. Questa concorrenza ha fatto sì, è una concomitanza di eventi, ovviamente non è l'unico motivo, ma ha fatto sì che all'Italia soffrisse tremendamente la concorrenza interna nel proprio aeroporto di riferimento dei low cost, ha fatto sì che all'Italia non avesse più la possibilità di rendere profittevoli alcune rotte, ha fatto sì che all'Italia cadesse su se stessa per il semplice fatto di convivere con una diciamo concorrente che ha una struttura dei costi che è completamente diversa dalla sua, quindi è una concorrenza che non può ottenere, tipicamente proprio non la può ottenere. Un'altra problematica che c'è è che non essendoci la possibilità di avere un modello low cost lontano dal modello del lab, tutti i servizi a terra che sono in qualche modo a servizio dei passeggeri si sono dimensionati su un modello low cost. La tragedia sociale che si vive a Fiumicino, l'avrete sentita, è il fatto che la precarizzazione del lavoro, la esternalizzazione del lavoro verso società sempre meno diciamo così propense a pagare il lavoro del personale, ma sempre invece più attente a ridurre i costi perché devono stare dentro a prezzi molto piccoli, fa sì che Fiumicino viva un doppio problema sociale, cioè all'Italia che sta crollando e quindi l'indotto all'Italia che sta morendo per causa dei low cost e il fatto che molte società a servizio, ho finito, a servizio dei servizi aeroportuali si stanno adeguando al modello low cost che non è però un modello tipico di un hub internazionale. Tutto questo per far sopravvivere un'enorme speculazione fondiaria perché chiudo dicendo che quel raddoppio non è un raddoppio necessario ma è un raddoppio che non serve a nulla in termini di trasporto e questo lo possiamo dimostrare in ogni tavolo, lo fa per sostenere un'enorme speculazione privata pagata con i soldi pubblici. Quindi quello che noi chiediamo alla politica in generale è a mettere il naso dentro al contratto di programma che lega aeroporti di Roma allo Stato che è un contratto pubblico che ha tantissimi motivi diciamo così di indagine in qualche modo. Rivedere il piano degli aeroporti regionali e questo la Regione Lazio lo dovrebbe fare perché è una materia di sua competenza anche se è concorrenza con lo Stato ma di sua competenza e individuare un aeroporto low cost laddove questa cosa possa portare valore e non distruggere valore. Rivedere il piano della logistica dei trasporti di Lazio anche in funzione di questo e noi come Comitato Fuoripista lo abbiamo fatto rispondo forse a una domanda a una puntualizzazione noi lo abbiamo fatto e questo piano è stato presentato in Regione Lazio ed è stato affossato dalla Regione Lazio chiuso nei cassetti della Regione Lazio ma sta là, c'è lo abbiamo fatto noi insieme all'Università della Sapienza di Roma e prevede questo tipo di dinamica quindi la Regione può occuparsi di questo e a questo punto far sì che nell'aeroporto di Fiumicino dove vivono e lavorano tantissime persone il lavoro venga rivalutato senza la scusa e io la chiamo anche in qualche modo o l'esca o il ricatto del lavoro perché questa speculazione di Benetton vive sul fatto che in quella zona il lavoro non esiste e quindi l'unica possibilità delle persone dei giovani lì è quella di aggrapparsi a questi progetti che sono distruttivi del loro stesso territorio questo è quello che chiediamo alla politica regionale di domani grazie allora e grazie 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 grazie